Amici trevi meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che sostanzialmente rimarrà bella. Grazie a una zona di alta pressione che si è posizionata sul Mediterraneo e sull'Italia, tiene lontane nuove perturbazioni. E così come nuvolosità ben poco da segnalarvi, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso in tutto il nostro paese, magari qualche nuvola si formerà sulle zone montuose, specie nel pomeriggio, ma con poche conseguenze. Infatti anche come precipitazioni, nulla di eccezionale, nel pomeriggio magari qualche breve acquazione o temporale potrebbe formarsi appunto a ridosso delle zone montuose, ma in realtà come vedete fenomeni del tutto sporadici e occasionali. Quindi in definitiva ci attende una domenica di bel tempo, quasi estiva un po' in tutta Italia, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che restano molto miti. Al nord e sull'Alto Tireno superiamo i 25 gradi all'ombra, in alcuni casi al sole ci avviciniamo ai 30 gradi. Con questo è tutto, per dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.